certo potrebbe essere una bella atmosfera ma sicuramente ho l'impressione che questa luce sotto questo piatto rovesciato illumini ben poco proviamo a togliere il piatto vediamo l'effetto che fa ecco qui questa luce se poi la metto in alto ecco che riuscite a vedere anche la mia faccia piccolo esperimento per spiegare il vangelo di oggi il signore ci dice ma cosa serve se voi siete la luce della terra se mettete sotto un vaso dovete metterla in cima alla montagna illuminare il mondo così cosa serve se il sale perdesse sapore deve essere saporito noi siamo il sale la terra la luce del mondo insaporiamo questo mondo e portiamogli luce ciao ciao ciao